Facevano arrivare dall'estero veicoli che secondo la normativa vigente non potevano essere immatricolati e riuscivano a farli targare grazie alla compiacenza di alcuni dipendenti della motorizzazione di Bergamo. La polizia di stato ha individuato un sudalizio che agiva tra Varese, Milano e Bergamo. Gli agenti di Varese hanno arrestato 8 persone e risultano indagate altre 24. Le accuse sono di falsità ideologica in atto pubblico, corruzione, abuso di ufficio e riciclaggio. Le indagini dei poliziotti della polizia di frontiera di Luino hanno accertato che il sudalizio criminale si occupava dell'immatricolazione di veicoli provenienti dall'estero, per lo più dall'Inghilterra, dalla Romania e dagli Stati Uniti. I dettagli sono stati forniti nel corso della conferenza stampa di stamane a Varese, in questura. 104 i veicoli sequestrati, tutti nazionalizzati da un'agenzia pratica e auto di Bergamo, gestita da padre e figlio, e da un'altra agenzia di Ro, specializzata anche nel restauro di veicoli d'epoca. Tra i veicoli sequestrati vi sono dei cloni di vetture blasonati, quali Lamborghini, prototipi di veicoli autocostruiti in garage, con motori motociclistici, concept car, auto allestite da rally o con pesanti modifiche tanning alla carrozzeria, che non sarebbero mai state targate se non grazie all'intervento dei pubblici impiegati della motorizzazione di Bergamo. Tra gli otto destinatari delle misure cautelare, oltre ai gestori di tre agenzie di pratiche auto e a un odonto tecnico che per passione esercitava l'attività di pratiche auto, vi sono tre dipendenti della motorizzazione di Bergamo, addetti alle immatricolazioni e alle operazioni di collaudo e revisione dei veicoli. I veicoli importati attraverso un concessionario della città di Bergamo e di Borgo Manero, ma anche da privati cittadini, usufruivano del servizio di immatricolazione all inclusive. Il costo della pratica finita era di circa 3.000 euro e parte di questa somma, circa 600, sarebbe servita per corrompere gli impiegati addetti all'immatricolazione. I titolari di autoscuole, di agenzie pratiche auto, di officine, di dite di trasporti operanti nel Bergamasco, ma non solo, usufruivano dei servizi illeciti di questi impiegati della motorizzazione che dietro il pagamento di una mazzetta o altra utilità riuscivano a far ottenere in tempi rapidi immatricolazione e nazionalizzazione corredate di documentazione falsa, inesatta o carente, collaudi di veicoli non idonei alla circolazione o fuori norma. Il titolare dell'agenzia di pratiche bergamasche era solito incontrarsi nel parcheggio di un centro commerciale con un dipendente della motorizzazione di Bergamo, qui avveniva la consegna della tangente o delle pratiche che venivano espletate nel giro di pochi giorni.